Hi guys! Non spaventatevi della mia faccia e nemmeno di Pietro, Alberto, Giampaolo e tutti i miei amici sulla faccia ma non ho avuto veramente voglia di truccarmi questo video riguarderà gli outfit che ho utilizzato e che ho utilizzato anche in passato, anche adesso insomma degli outfit autunnali e invernali mi raccomando mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e se anche gli altri video vi piacciono, se non vi piacciono... e cominciamo con questo video perché veramente questa posizione è scomodissima e dolorosa quindi iniziamo! iscriviti al canale